Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Eccoci, buongiorno, insieme per un altro ristretto che si occuperà di mondo del lavoro, sempre visto dall'estero, di politica, quella non manca mai e non mancherà ancora, fidatevi di me, e poi di un bellissimo articolo turistico del National Geographic. Rimanete in ascolto. Comincio col lavoro. Intesa San Paolo, la più grande banca italiana, sta trattando con i sindacati su una settimana lavorativa distribuita su quattro giorni per tutti i suoi 74 mila dipendenti distribuiti in tutto il paese. Lo riferisce da Londra, Reuters, salutando così la prima operazione del genere da parte di una grossa azienda italiana. Accorciare la settimana, ripeto, quattro giorni, non più cinque, servirebbe a ridurre le bollette elettriche in un momento in cui tutto il continente sta lottando contro i rincari dell'energia. Ma ci sono tesi secondo la quale, a prescindere dall'energia, aumenta la produttività. Il progetto di intesa prevede 36 ore a settimana contro le attuali 37,5 a parità di stipendio. Del resto, precisa la direzione, questa non è una novità, ma è già tutto previsto nel contratto vigente dei bancari. Ora si attende la risposta dei sindacati. Del resto, delle settimane più brevi, si cominciò a parlare già durante la pandemia e i conseguenti lockdown. E sempre per rimanere nel mondo del lavoro, Daily Business dalla Romania accoglie con grande favore il giro di vite dell'Italia contro i datori di lavoro che non rispettano le normative del lavoro domestico. Del resto, gran parte di colfe badanti sono immigrate e immigrati rumeni. La nuova normativa sulla trasparenza, la nuova normativa italiana, obbliga non solo le famiglie a inserire correttamente tutti i dati richiesti dei lavoratori nei contratti stipulati, ma anche ad aggiornare quelli stipulati prima dell'entrata in vigore di questa normativa, cioè agosto. Per cui andranno bene evidenziati la sede delle prestazioni del lavoro domestico, il tipo di prestazioni richieste, l'autonomia decisionale del collaboratore domestico, l'orario di lavoro, eccetera, eccetera. E per chi non lo fa ci sono molte fino a 1500 euro. Dal lavoro alla politica, Meloni fa di necessità virtù e dopo i ripetuti rifiuti da parte dei tecnici più prestigiosi, ora promette il governo più politico di tutti i tempi, mentre i suoi partner Salvini e Berlusconi aspettano fiduciosi la distribuzione dei ministeri. Ne scrive da Lisbona, espresso riferendo le parole della prossima premier, quando afferma che i governi sono politici quando ricevono un mandato popolare, quando rappresentano una maggioranza nata nelle urne e non nei palazzi, e hanno un programma e una visione chiari. Tutto giusto, tutto condivisibile, ci mancherebbe se non fosse. E la stessa Meloni, proprio lei, meno di una settimana fa, affermava di volere un governo di alto livello e di non avere per questo alcun pregiudizio sulla partecipazione dei tecnici, anche molti, nella sua compagine. Ormai comunque è questione di giorni e sapremo chi osa la testata portoghese. E dopo la nomina dei presidenti delle Camere, che sono la seconda e la terza carica dello Stato, il presidente Mattarella avvierà le consultazioni. Senza potere, la sinistra potrà mai vincere di nuovo in Italia? Se lo chiede politico la rivista geopolitica statunitense che spesso consulto per questo podcast. L'articolo attacca, ricordando l'autobus elettrico, quello usato da Letta per la campagna elettorale, un mezzo di trasporto che era stato scelto per testimoniare l'attenzione ai cambiamenti climatici, il quale però si fermò per batteria esaurita lungo la strada per Torino. Ci fu chi ci volle vedere, e vaglia da retorto, un chiaro presagio di ciò che stava per accadere con la sconfitta solenne del 25 settembre. Una sconfitta che ha portato a recriminazioni e sedute di autocoscienza, nelle quali più di una figura di spicco ha suggerito l'autoscioglimento. Una sconfitta che ha rappresentato un duro colpo anche per l'Europa, in quanto sconfitta di una agenda elettorale tutta incentrata sull'Italia parte integrante dell'Unione. E poi gli errori tattici e strategici del leader durante la corsa alla Premiership. Sul banco degli accusati è sempre politico che scrive le ripetute colpevolizzazioni dell'avversaria del tipo o lei o noi. E poi, nell'unico confronto televisivo, lo scontro perdente di un sussiegoso professore universitario contro l'autenticità operaia di una donna del popolo. Penalizzante ancora, sempre secondo gli americani di politico, l'avere dato priorità alle questioni dei diritti delle minoranze e dei discriminati. E tutto ciò ha scapito invece delle questioni che più riguardano quella classe operaia che il PD non rappresenta più, semmai l'ha rappresentata da quando è diventato PD. Lavoratori ai quali, da sinistra, non è giunto proprio nessun messaggio. I democratici italiani, conclude l'analisi, si sono progressivamente trasformati nel partito dell'establishment e il segno è arrivato chiaro quando il leader del sindacato dominante, la CGL, si è rifiutato di seguirli. E allora che cosa c'è nel futuro del PD? Politico non fa mistero di guardare a Elie Schlein, l'attuale vicepresidente della regione Emilia Romagna, che ha detto «Dobbiamo rimettere al centro della nostra lotta il diritto alla casa, al lavoro, le opportunità per i giovani, in modo che non debbano andare all'estero. Nessun scioglimento che porterebbe ad ulteriori divisioni e a nuovi gruppi, consiglia l'estensore del servizio, ma una seria opposizione per tutto il tempo che servirà». Siamo arrivati al turismo, un gran bell'articolo che fa venire voglia di chiudere la valigia e di partire. L'articolo si intitola «Una nuova vita per l'ultima steppa d'Italia». Il titolo è di un servizio affascinante, ve lo dicevo, del National Geographic, edizione portoghese. L'ultima steppa è il Parco Nazionale dell'Altamurgia e la visita del fortunato inviato comincia a Altamura. L'Altamurgia è uno degli ultimi paesaggi steppici rimasti in Italia e comprende 13 comuni che conservano tesori storici, culturali e gastronomici poco conosciuti. Nella cava Pontrelli, ad esempio, rimangono circa 30.000 impronte di dinosauri e questo è anche il sito del ritrovamento dell'uomo di Altamura, uno scheletro eccezionalmente ben conservato di un deandertal vissuto circa. 150.000 anni fa. Inoltre, questo paesaggio di doline e di anfratti carsici è quello che accompagnava i pellegrini che percorrevano la via Appia diretti in Terra Santa. Scomparsa dalle mappe più di mezzo secolo fa, nell'epoca dello spopolamento delle campagne, l'Altamurgia negli anni Sessanta divenne una discarica illegale di rifiuti industriali, oltre che covo di banditi e oltre che sede di dieci rampe di lancio di missili nucleari statunitensi. Ora però, grazie a un numero crescente di emigrati di ritorno, continua National Geographic e soprattutto grazie ai loro figli e nipoti, la zona sta ressuscitando. E quindi la rivista ci parla della rinata e suggestiva grotta della Bauxite di Spinazzola, ma anche di Castel del Monte, la celebre fortezza ottogonale di Andria, dichiarata a sito dell'UNESCO, poi del progetto Olo Museum, per poter visitare le parti chiuse al pubblico attraverso la realtà aumentata, e poi ancora la gravina sotterranea, un labirinto sotterraneo di cunicoli, cantine e acquedotti scavati nella roccia. E ancora, ancora, la masseria Iesce, un edificio del XVI secolo, un tempo posto di ristoro per i pellegrini con una magnifica cripta affrescata. E per chi vuole fermarsi a dormire o a soggiornare per qualche giorno, la prestigiosa rivista internazionale indica la biomasseria Lama di Luna, un hotel sostenibile con 11 camere e vista panoramica su ettari di olivi, mandorle e vigneti. Per godersi, conclude l'invidiato speciale, un brivido di tranquillità. Io la valigia la preparo, questo ve lo devo dire. Magari qualche ristretto vi arriverà dall'Alta Murgia. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. A domani.